salve amici dopo più di tre anni eccoci nello stesso posto dove per la prima volta abbiamo iniziato a farvi conoscere le spiagge della sterrenas nella fattispecie playa bonita e playa escondita che potete trovare tranquillamente sul mio canale youtube perché tutto questo tempo per farvi conoscere quest'altra parte di litorale della sterrenas perché è la parte che piace di più al comandante clearco quindi ogni volta trovava una scusa per non farla però si sa sotto minaccia diventano tutti più malleabili quindi venite con me a scoprire questa spiaggia veramente stupenda ci troviamo a punta bonita che oltre ad essere la spiaggia preferita da clearco è anche la mia spiaggia preferita è la parte di spiaggia che unisce playa bonita a playa coson e ha tre caratteristiche principali che la rendono per me la più bella della sterrenas la sua conformazione la tiene riparata dal vento e dalle correnti quindi quasi sempre il mare è totalmente piatto cristallino e si possono fare delle nuotate stupende tra l'altro questa spiaggia è talmente bella talmente selvaggia talmente pura che viene utilizzata anche come set fotografico con tanta playa che tiene la terrena perché è lei è giustamente punta bonita sono un fotografico professionale e io viaggio molto a mexico, repubblica dominicana, caribbia e mi piace questa playa, questa playa è perfetta per fotografia perché mi piace il background, mi piace molto acqua, sinola, e i arvoli, i palmi, tutto è perfetto e è bonita. Tiene tutto, tutto per i clienti 111? Sì, sì, cada lato è bonita, qui, 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 che ne necessito più? Infine questa è una spiaggia poco conosciuta e quindi poco frequentata che vi potrà regalare il massimo del relax e il massimo della tranquillità. Ragazzi un posto meraviglioso, una natura strepitosa, una piscina naturale, una spiaggia che veramente non dimenticherete facilmente. Tra l'altro passeggiando sulla spiaggia è facile trovare dei baracchini dove è possibile gustare un'ottima comida dominicana. Da quella parte invece troviamo playa coson che potete scoprire, rivedere sul nostro canale youtube guido la guida. Ragazzi se avrete la possibilità mi raccomando non vi private di queste emozioni, mi raccomando continuate a seguirci, mettete mi piace sulla mia pagina facebook, iscrivetevi al mio canale youtube e mi raccomando condividete, 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 condividete.